ciao a tutti con oggi vedremo in questo tutorial come installare configurare ed utilizzare malware bytes anti malware è un programmino un programma che negli ultimi anni ha riscosso parecchio successo tra gli utilizzatori soprattutto nel mondo windows dei pc in quanto era uno degli strumenti ed è tuttora uno degli strumenti più utilizzati per rimuovere quasi completamente ogni traccia di malware dal nostro pc dal nostro pc windows e oggi anche per me ormai sono diversi mesi che anche la versione mac funziona è attiva non è più in beta è una versione ufficiale funziona bene anche lei trova anche lei con questa versione i problemi che ci possono essere di malware per sbaglio scaricati sul nostro mac non siamo ai livelli di emergenza come con i pc sono meno sono molto meno e molto meno invasivi per ora ma cominciano esserci anche per mac chi dice che non ci sono mente sapendo di mentire ci sono esistono esistono i virus per il mac come esistono per il pc ripeto sono meno è vero ma esistono comunque questo software aiuterà a rimuoverli quasi completamente è diventato famoso perché è leggero gratuito esiste anche una versione premium a pagamento ma la versione gratuita fa già tutto quello che deve fare già dalla sua prima installazione è diventato talmente famoso che si è comprato altri software che ha racchiuso all'interno di se stesso non li vediamo non vengono diciamo pubblicizzati liberamente e in modo molto chiaro già dall'installazione del programma ma chi conosce altri software di pulizia malware proverà e troverà sui siti dove prima scaricava le versioni free l'avviso che è stato acquistato da malwarebytes anti malware questo per far capire quanto è diventato grosso questo programma è di quanto diventato potente vedremo adesso tutte le fasi di come installarlo e come configurarlo a breve allora abbiamo detto che vedremo l'utilizzo di malwarebytes di come si installa di come si configura in realtà non c'è molto da configurare malwarebytes nella versione mac che è praticamente identica alla versione per pc andiamo ad aprire il nostro browser io ho già fatto la ricerca per malwarebytes prima vi dicevo che qualche programma è stato acquistato da malwarebytes e incluso all'interno di malwarebytes il più famoso è adv cleaner che vediamo ora non più nel suo sito originale ma già nel nuovo sito quindi già dentro in malwarebytes malwarebytes ha fatto la scelta di introdurre nella sua famiglia di prodotti adv cleaner chiamandolo malwarebytes adv cleaner quindi ha mantenuto lo stesso nome è lo stesso identico programma stand alone quindi non va installato si scarica si lancia e funziona solo così cioè non va installato esiste solo per pc non esiste per mac elimina ad aware spyware e tutto quello che gli gira attorno non i virus ovviamente perché non è un antivirus è un anti malware un antispyware funziona molto bene io lo conoscevo già prima che diventasse di malwarebytes era ancora indipendente come programmino e funzionava già bene allora ora fa parte di questa grande famiglia e funzionerà sicuramente bene è un stand alone solo per pc come abbiamo detto ve lo volevo far vedere perché comunque all'interno del motore di malwarebytes ci sono alcuni blocchi di codice di adv cleaner proprio perché funzionava funziona e funzionava davvero bene come programma per trovare i malware e malwarebytes giustamente ha voluto acquistarlo e utilizzarlo una parte per il pc in stand alone e l'altra parte un po più generale quindi anche per mac includendola all'interno del motore quindi torniamo sul nostro google dove trova il sito di malwarebytes come prima potrebbe capitare che magari non è il primo diciamo come come consiglio di google all'interno della ricerca ma tra i primi sicuramente troverete quello di malwarebytes corretto andiamo direttamente su download gratuito vedete che anche qui come per cicliner ha riconosciuto che stiamo utilizzando un mac come potrebbe riconoscere che sta utilizzando un pc e quindi vi propone la versione corretta per scaricare il programma come al solito ce lo fa scaricare in questo caso è un pkg non è una dmg quindi non è un archivio ma proprio un vero programma file di installazione infatti andrà installare il programma già nella nostra cartella applicazioni non dovremo trascinarla all'interno della cartella applicazioni come nel caso di altri programmi come cicliner che abbiamo visto nel tutorial precedente terminato il download procediamo all'installazione come vi avevo detto essendo un bkg è un installatore a tutti gli effetti è un install sotto il mondo di windows andiamo col continua andiamo l'accetta selezioniamo nel nostro caso un disco in alcuni casi potrebbero esserci di più selezionate il disco principale dove installarlo diamo l'ok e installiamo il programma ci chiederà a questo punto il codice di autorizzazione per installare un software che corrisponde alla password di ingresso del vostro mac terminata l'installazione come vedete dietro nonostante sta ancora installando ha già aperto l'interfaccia del programma perché in realtà sta già lavorando l'ha installato e sta già aggiornando le liste intanto posso chiudere anche il browser sta verificando a questo punto i vari componenti che sta che ha scaricato per il suo programma malwarebytes diciamo che è arrivato sul mondo windows subito dopo i primi grossi attacchi al sistema operativo windows di casa microsoft dei grossi malware degli anni scorsi insieme a dvcleaner e altri programmi tipo spybot per chi se lo può ricordare sono stati i primi software che hanno dato una mano all'utenza media per affrontare emergenze di infezioni non tanto da virus in quanto gli antivirus non riconoscevano ancora i malware come pericolosi all'interno delle loro liste di riconoscimento dei file e quindi cominciava ad esserci questa strana cosa c'è un antivirus aggiornato ma mi arriva il malware hanno cominciato a diffondersi questi programmi intanto abbiamo terminato abbiamo terminato l'installazione e quindi diffondendosi questi programmi hanno preso sempre più piede e si sono sempre più perfezionati sempre più rafforzati e sono sempre più diventati utili in effetti perché uno non vuole avere un antivirus installato tipo io con un mac non lo voglio non mi serve non vado su siti strani che potrei prendere qualunque tipo di virus o cose del genere però ogni tanto una pulizia e un controllo con un anti malware non mi dispiace farlo perché comunque ripeto i siti a rischio sono tanti e purtroppo lavorando con internet navigando con internet può capitare perché nemmeno il più esperto si accorga di un qualcosa che in quel momento viene scaricato sul proprio pc o sul proprio mac com'è l'interfaccia? è molto pulita è molto pulita abbiamo quattro pulsanti lo scan la dashboard di controllo dove ti dice ok sei protetto l'ultimo scan ovviamente avendolo appena installato non ce l'ho quindi non c'è una data di ultimo scan mi dice che attiva la protezione in tempo reale in questo momento questo è il pulsante per lanciare la scansione il pulsante dove troverò i file in quarantena e le impostazioni dove io posso mettere per esempio saltare i file in caso che viene trovato un file non voluto invece che metterlo in quarantena il controllo da fare per esempio ogni ora la possibilità di nascondere la barra dell'applicazione l'icona qua in alto oppure di lasciarla in bianco e nero o perché no colorata se ci piace averla ancora colorata la possibilità di fare un update un aggiornamento del software anche se ci sono delle versioni beta ci sono delle versioni beta io dico no va bene anche se ci sono versioni beta non stabili che sono solo di test va bene la voglio testare la voglio provare basta abilitare questa funzione in automatico il software ci segnala se c'è una versioni beta disponibile al download per procedere in modo più veloce a questo punto cominciamo con la scansione adesso io lancerò la scansione poi la lascerò andare in realtà ridurrò il video taglierò questo pezzo ma semplicemente perché è noiosissimo vedere andare una scansione tenete presente che col pc è molto molto più lento ma semplicemente perché è molto più corposo il motore è molto più forte il motore per pc ma anche perché contiene molte più tracce di malware che possono essere nascosti all'interno di un pc rispetto a quelle di un mac lancio la scansione ci vediamo alla fine della scansione ok abbiamo finito la scansione nel mio caso dice congratulation you are clean ok congratulazioni sei pulito si diciamo che ripeto utilizzando il mac nel mio caso solo per lavoro per fare video per fare qualcosa come montaggio video testi e queste cose non vado quasi mai su siti particolari che potrebbero eventualmente anche scaricare un malware senza che me ne accorga però ripeto può capitare anche al migliore degli utilizzatori un click sulla finestra sbagliata può succedere e ci si trova col computer col pc o col mac completamente in palla così da un giorno all'altro un controllino ogni tanto ma non fa mai male sono contento sono pulito perfetto e dimenticavo la versione che scaricate la prima volta è sempre la premium questo anche nel pc cosa vuol dire avete per 30 giorni se non ricordo male anche nel pc la possibilità di utilizzare al 100% le funzioni della versione premium a pagamento anche nella versione free quindi se voi poi lo cancellerete lo disinstallerete e tra un mese lo reinstallate da zero avrete ancora lo stesso periodo di tempo ecco perché anche nella versione setting posso fare il check automatico cosa che non potrei nella versione free e basta e anche se non mi ricordo male la possibilità di avere gli update automatici automatici e le definizioni dei malware aggiornate in modo in tempo reale avviene solo con la versione premium a pagamento altrimenti è tutto manuale sia l'aggiornamento delle liste che l'aggiornamento della versione ripeto installato la prima volta la versione premium è inclusa sempre penso che io Malwarebytes l'avrò installato e disinstallato su mac intendo ecco su PCMI almeno penso una ventina di volte e sono sempre praticamente sulla versione premium la prima volta che lo installo quindi non credo che lascia delle tracce da qualche parte vi dicevo prima quando abbiamo visto se non l'avete vista andate a vederla la recensione di Ccleaner che lavora molto bene Malwarebytes con Ccleaner si lavora bene perché uno lavora in sinergia con l'altro per la pulizia sia del PC che del Mac uno analizza trova i malware e li cancella quell'altro va a fare una pulizia un po' più profonda di quello che sono le cache quindi togliendo eventuali tracce ancora di spyware e malware che ci possono essere in giro e pulendo anche il registro nella versione del PC va ancora di più a pulire in modo profondo la nostra macchina utilizzateli insieme ve lo consiglio una volta al mese non costa niente installatelo sia Ccleaner che Malwarebytes lanciate prima uno poi l'altro di solito lancio Ccleaner faccio una pulizia lancio Malwarebytes faccio fare tutta la scansione con eventualmente la pulizia anche Malwarebytes subito dopo rilancio ancora Ccleaner così mi ripulisce ancora quello che ci può essere in cache cancello dopo entrambi e sono pulito tranquillo per un mesetto ripeto se non andate su siti particolari per siti particolari intendo anche siti non standard non siti che possono essere il vostro client di posta per esempio se avete Libero se avete Tiscali se avete Wind andate a vedere la vostra posta via web è un sito chiamiamolo più o meno standard Google nelle varie ricerche che fate siti che possono parlare di moda di tecnologia va bene ma su siti magari che per scaricare qualche programma un sito magari che vi dice ah qui ho una lista di file che ti possono servire per qualunque cosa ecco quelli potrebbero essere siti che magari nascondono al loro interno qualche malware o qualcosa semplicemente per tenere traccia della vostra navigazione utilizzate questi due software e non avrete problemi ripeto sono blindati non possono causare danni se non li toccate dal loro standard come con Ccleaner abbiamo visto non ci sono problemi perché sono già configurati per essere utilizzati da da chiunque senza avere problemi e senza sapere essere dei geni in fatto di configurazione di software ripeto utilizzatele tranquillamente io non ho mai avuto notizie di qualcuno che è rimasto col pc rovinato col mac rovinato perché ha usato questi programmi anzi a chi l'ho consigliato è sempre rimasto soddisfatto di questi software senza lamentare nessun tipo di problema provateli solo questo e detto questo ciao e ci vediamo alla prossima recensione per la prossima recensione